Buonasera a tutti, questo webinar gratuito che ci offre Maurizio per presentare il corso la riflessologia per la fertilità della coppia. È un corso che abbiamo già fatto alcuni anni fa, è stato il primo corso online che abbiamo fatto durante i primi mesi della pandemia e abbiamo così inaugurato questa bella consuetudine di fare i corsi online che certamente sono meno interessanti dei corsi dal vivo ma hanno il vantaggio di permettere a tutti di partecipare anche senza doversi spostare da casa e quindi hanno anche dei vantaggi notevoli. Inoltre sono registrati, restano visibili per tutto il tempo che è possibile e quindi danno anche la possibilità appunto di rivedere le lezioni, rivedere le tecniche eccetera. Quindi benvenuti a tutti, a tutte e do la parola a Maurizio che la maggior parte di voi già conosce e chi non lo conosce stasera lo conoscerà. Prego. No, non si perde nulla ma va bene. Buonasera, buonasera a tutti e Cristina ti ti prego di farvi il host e così posso condividere. Faccio un po' organizzatore, ecco così puoi condividere lo sterno eccetera eccetera. Buonasera a tutti, sono molto onorato, grazie a Cristina per questa invitazione a continuare con questa serie di webinar online. Io non mi ricordavo che era la prima volta che siamo stati qui online, dopo abbiamo condiviso alcuni altri corsi con il corso di riflessologia in gravidanza, il corso nel trattamento del dolore e sono di accordo che è molto più interessante i corsi in presenza, ma i corsi online hanno ovviamente un grande vantaggio. Sono come ho detto molto onorato e molto felice di essere con voi in una nuova opportunità e questa volta per condividere con voi un'oretta parlando della fertilità. Allora io mi presento per quelli di voi che non mi conoscono, sono Maurizio Cruci, il mio nome Moshe perché io abito a Israele e il mio nome in ebraico, ma potete chiamarmi Mauri, Maurizio, come vuoi. Io sono riflessologo già da 26 anni e sono specializzato in tutti gli aspetti della maternità e uno degli aspetti della maternità è la fertilità. Nei corsi che io insegno, nel corso di quello che io chiamo il MRTP, Maternity Reflexology Training Program, programma di educazione alla riflessologia e alla maternità, insegno tutti gli aspetti di come la riflessologia può aiutare nei processi della maternità, del periodo preconcezionale alla fertilità, alla gravidanza, il parto, il puerpedio, l'allattamento, eccetera. In questa opportunità cominciamo a parlare sul soggetto della fertilità che è un successo molto difficile nel senso che noi abbiamo... Come posso dirlo? Per esempio, se io ho un paziente che viene con un dolore, io so che dopo alcune sessioni questa persona, questa persona già non soffrirà il dolore e sarà guarito. E quando una persona viene con un problema di diabete, per esempio, sappiamo che si tratta di una malattia cronica e che noi possiamo aiutare a questa persona a guadire di una buona qualità di vita e aiutare al corpo a mantenere uno buono stato fisiologico. Ma quando si tratta di fertilità, noi non sappiamo mai come la storia finisce, perché la fertilità è uno stato di ce l'ho o non ce l'ho, c'è un bambino o non c'è un bambino, c'è una gravidanza o non c'è una gravidanza. E in questo soggetto della fertilità sempre abbiamo un grado molto grande di incertezza perché ci sono molti fattori, quelli che influiscono nel processo di fertilità. Non so quanti di voi avete trattato già una persona o una coppia per problemi di fertilità. Sono assolutamente sicuro che anche avete trovato grandissime difficoltà per trovare il cammino giusto, la strada giusta per aiutarli. Né sempre possiamo arrivare alla fine, a un buon fine, a un finale felice, come si tratta della nascita di un bambino. Ma dobbiamo fare lo sforzo e infatti la riflessologia è una terapia olistica che aiuta la coppia a arrivare a questo punto, a arrivare alla gravidanza e dopo alla nascita del bambino. Io nella mia esperienza ho visto molti casi di persone che sono venute con problemi diversi, sia fisico che spirituale, psicologico, e li ho aiutati in modi diversi a superare questo problema. Alla fine, sì, la mia statistica, io non posso dire che sia un 100% un successo di avere un bambino alla fine, ma un grande percentuale dei casi sono arrivati a un buon fine. Allora, quando parliamo di infertilità o quando parliamo di riflessologia in o riflessologia per la fertilità, quello che dobbiamo sapere è che tutti i casi di fertilità sono diversi. Non ci sono due storie di fertilità o di infertilità che siano uguali. Quindi noi dobbiamo avere un approccio personale giusto, con un colloquio aperto, con le persone che vengono da noi, perché queste persone si trovano in uno stato di grande ansia, grande incertezza, una grande mancanza di sicurezza e anche con una grande paura. Ho preparato per questa sera una piccola presentazione dove proverò di trattare in un modo molto breve alcune delle cose le più importanti che noi possiamo aiutare con la riflessologia. Spero che nel termine di quest'ora, che saremo insieme, avremo una buona immagine dove noi possiamo aiutare e avere un'idea di quali saranno i contenuti del corso che comincerà il 27 marzo. Andiamo. Allora, posso condividere già la mia presentazione? Sì, posso. Posso. Certo. Posso. Molto bene. Allora, siamo ottimisti e chiamiamole riflessologia e fertilità. Se non c'è un problema di fertilità, magari la coppia non ha bisogno di riflessologia. Quando verrà da noi? Quando c'è un problema di infertilità. L'infertilità può essere trovata nella donna, nell'uomo. Le statistiche dicono che il 35% dei problemi di fertilità si trovano in problemi fisici della donna, un altro 35% in problemi fisici dell'uomo, un altro 15% si trova in problemi di entrambi le due e un 15% si trova in problemi che non si sanno spiegare. vuol dire che tutto con la donna va bene, tutto con l'uomo va bene, ma non c'è un bambino. Quale sarebbe la ragione per cui loro non possono arrivare alla gravidanza e dopo al bambino? Spieghiamo cos'è l'infertilità. E' una malattia dell'apparato riproduttivo maschile o femminile consistente nell'incapacità di ottenere una gravidanza dopo 12 mesi o più di rapporti sessuali regolari e non protetti. Così lo definisce la comunità medica internazionale. semplicemente perché una delle ragioni è che se dopo per esempio due mesi di provare una coppia viene dal medico e gli dice ah noi non riusciamo a ingravidare, gli dice no ma la probabilità di ingravidare negli esseri umani è del 20%. Se noi guardiamo in natura per esempio il mondo animale, nel mondo animale l'uomo è l'animale il più non perfetto perché per esempio questi problemi di infertilità non si trovano così nel mondo animale. Nel mondo animale c'è un periodo di riproduzione e non si conoscono problemi di infertilità come si conosce nell'essere umano. Ma questo è perché il sistema riproduttivo sessuale dell'uomo e della donna non è abbastanza perfetto, non funziona come un computer, non si può programmare, non si può dare una ordine e fare che il sistema faccia la nostra voglia. L'infertilità si divide in due aspetti. Una che si chiama la infertilità primaria, che si riferisce alle copie che non sono riuscite a rimanere incinte dopo almeno un anno di riporti sessuali senza utilizzare metodi contraccettivi, e una infertilità secondaria che si riferisce alle copie che non sono riuscite a rimanere incinte almeno una volta ma che ora non riescono più a farlo. Noi riceviamo nella nostra pratica di riflessologia entrambi le due, quelli che non riescono ad arrivare a una prima gravidanza o quelli che dopo aver un figlio o alcune gravidanze non riescono ad avere un secondo figlio o una seconda gravidanza. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, ha pubblicato in aprile del 2023 un nuovo rapporto rivelando che circa il 17,5% della popolazione adulta, circa una persona su sei in tutto il mondo, soffre di infertilità. Una di ogni sei persone. E quali sono alcune delle cose, alcune delle possibili cause di infertilità femminile? La prima, la causa la più comune di infertilità femminile è l'incapacità di ovulare, che si verifica nel 40% delle donne con problemi di infertilità. La mancanza di ovulazione può verificarsi per diversi motivi, tra cui condizioni ovariche o ginecologiche, come l'insufficienza ovarica primaria, POI per il suo nome in inglese, o la sindrome dell'ovaio policistico, una delle condizioni le più comuni che impediscono l'ovulazione. Invecchiamento, che include una diminuzione della riserva ovarica, che si riferisce a un basso numero di ovulazione nelle ovaie di una donna e causa del normale invecchiamento. Ricordiamo che, per esempio, ogni donna è nata con una riserva ovarica di circa 300.000 ovociti e perde 1.000 ovociti ogni mese. Disturbi endocrini, come malattie della tiroide o problemi all'epotalamo, ti influenzano gli ormoni prodotti dell'organismo, per cui potrebbe esserci una quantità insufficiente o eccessiva di un ormone o di un gruppo di ormoni. Perché? Perché per la fertilità e per la fecondazione abbiamo bisogno dell'aiuto del sistema endocrino. Se il sistema endocrino non funziona bene, il sistema endocrino non funziona solo per la nostra voglia, funziona anche per influenza di fattori che sono esterni all'essere umano, e questi disturbi endocrini possono influenziare nella capacità di ovulare. Quali sono questi fattori ambientali e di stile di vita che possono essere correlati all'infartilità nelle donne e negli uomini? Prima, innanzitutto, mi riferisco a questi fattori ambientali perché sono importantissimi conoscerli e dopo arriveremo ai problemi fisiologici. La ricerca mostra costantemente che i fattori legati allo stile di vita, come per esempio la dieta, la qualità del sonno, il luogo in cui vive e altri comportamenti, hanno effetti profondi sulla salute e sulle malattie e la fertilità non fa eccezione. Diversi fattori legati allo stile di vita influenzano la fertilità delle donne, degli uomini o di entrambi e questi includono, ma non sono limitati a, per esempio, prima, l'alimentazione, peso ed esercizio fisico, stress fisico e psicologico, esposizioni ambientali e professionali, l'uso e abuso di sostanze e farmaci. Ad esempio, la ricerca mostra che l'obesità è collegata a una minore quantità e qualità dello sperma negli uomini. E voi sapete, per esempio, qual è il percentuale di obesità nel mondo? Si parla che nel paese occidentale è circa un 60% di persone obese o che soffrono di problemi di peso. Il sovrappeso Nelle donne obese che soffrono di sindrome di ovaio policistico, PCOS, la perdita del 5% del peso corporeo aumenta notevolmente la possibilità di ovulazione e gravidanza. E quindi parliamo solo di un 5% del peso corporeo. Diciamo che una donna che pesa oggi 70 kg e si perde 3,5 kg del suo peso aumenta notabilmente la possibilità di ovulazione e gravidanza. Vuol dire quanta attenzione noi dobbiamo prendere in una paziente che viene, per esempio, per una consulta, per una consulenza di riflessologia e dicendo io non riesco a ingravidare. Basta semplicemente con guardare il suo fisico e sapere che in un momento di questa consulenza noi dobbiamo aprire questo soggetto e parlarlo apertamente. Perché le soluzioni non si trovano solo nei farmaci o nelle visite al medico e molte volte il medico non parla di queste cose, non le dice alla persona Sì, ma lei con questo peso, con questo sovrappeso, lei può influire nella grande difficoltà che lei ha per avere una gravidanza. E si parla, quando parlo di questo parlo di donne e parlo di uomini, per le due. Il basso peso è correlato alla disfunzione ovarica e all'infertilità nelle donne. È noto che il lavoro fisico intenso e l'assunzione di vari farmaci riducono il numero di spermatozoi negli uomini. Allora, quando si parla di basso peso, ho ricevuto nella mia consulenza, nella mia pratica, alcune donne che hanno detto sì, ma io ho perso la mestruazione e mi piacerebbe ingravidare. Ma quando analizziamo gli aspetti, per esempio, del suo peso, che io guardo, che lei va bene. Se io la vedo e dico sì, ma lei sta bene fisicamente, apparentemente, sembra di essere bene, ma c'è un indice di massa corporea che non si deve attraversare. Perché quando si attraversa questo indice di massa corporea, sia giù che su, il corpo non riesce a, per esempio, liberare gli estrogeni che sono essenziali per la gravidanza. È una persona che fa molto esercizio e perde una grande massa di grasso nel corpo e il suo corpo non è capace di sistemare, il suo grasso non è, gli estrogeni dipendono del grasso, del tessuto grasso per essere sistemati e questo tessuto grasso si riduce, si riduisce di mese a mese, non è difficile pensare che questa potrebbe essere la ragione per la quale lei ha perso la mestruazione. e se è perso la mestruazione non c'è un ciclo mestruale e in questo ciclo mestruale la cosa la più importante per la gravidanza o per volere una gravidanza è l'ovulazione. Se non c'è mestruazione non c'è ovulazione. E l'esercizio eccessivo? È noto che l'esercizio eccessivo influisce sull'ovulazione e sulla fertilità nelle donne. La ricerca mostra che l'uso di androgeni o farmaci per aumentare la massa muscolare può influenzare la formazione dello sperma. Conoscete persone che fanno l'esercizio eccessivo e che dopo, per esempio, se la persona se le dice sì, ma lei magari sarà un po' meglio di pensare qual è la scelta la più importante per lei di fare l'esercizio in un modo esagerato o darle al corpo l'opportunità di ingravidare. E ho ascoltato alcune risposte come, per esempio, io non posso lasciare l'esercizio. Perché? Perché è come se fosse una droga, come se fosse un'abitudine, diciamo anche in modo compulsivo. Perché? Per la cura, per la guarigione del corpo. E va bene, ma quando si arriva alla decisione se devo ingravidare o no, l'eccesso di esercizio sia per l'uomo che per la donna è un fattore che influenza in un modo negativo. Altri fattori ambientali, per esempio, l'uso di sostanze tossice. L'uso di sostanze come il fumo di tabacco, l'uso di altri prodotti del tabacco, l'uso di marijuana, il consumo essestivo di alcol e l'uso di droghe illegali come l'eroina e la cocaina riducono la fertilità negli uomini e nelle donne. Alta pressione o ipertensione. L'alta pressione sanguigna modifica la forma degli spermatozoi riducendo la fertilità. Quindi non è solo voglio un bambino o un rapporto sessuale e dopo il rapporto sessuale deve venire la gravidanza. non sempre è così. Altri fattori. La radioterapia e la chimioterapia possono causare infertilità negli uomini e nelle donne. Le persone che devono sottoporsi a questi tipi di trattamento potrebbero prendere in considerazione la preservazione della fertilità. La ricerca la ricerca dimostra anche che l'esposizione a inquinanti organici persistenti e sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino proveniente dall'ambito può anche influenzare la fertilità maschile e femminile. Per esempio se un uomo diciamo l'uomo lavora in una fabbrica con alta esposizione a sostanze chimiche sostanze tossiche quale sarebbe la possibilità che queste sostanze tossiche di cui lui non è consapevole potranno influenziare la sua capacità di fertilità e la sua fertilità e lo stesso un uomo che una donna. Gli inquinanti organici persistenti sono attualmente o sono stati utilizzati in passato nei processi industriali e rimangono nell'ambiente molto più a lungo di altri prodotti chimici. E quindi la nostra esposizione a inquinanti organici non si tratta solo di per esempio lavorare in una fabbrica dove si utilizzano questi tipi di materiali. No, si tratta di quell'aria che noi respiriamo a diario e nel quotidiano. Studi sugli animali suggeriscono che l'esposizione a determinati inquinanti organici persistenti influisce sulla fertilità. anche negli animali. Lo studio Longitudinal Research of Fertility and Environment per il suo nome in inglese LIFE L-I-F-E sta esaminando se l'esposizione a inquinanti organici persistenti influisce sul tempo necessario alle coppie per ottenere una gravidanza o una misura della fertilità. È l'unico studio che misura le sostanze chimiche in entrambi i partner e che segue le coppie che cercano di ottenere una gravidanza per un anno. E quindi abbiamo molti fattori. Abbiamo parlato dell'alimentazione, dell'obesità, dell'esposizione o l'assunzione di sostanze tossiche come per esempio le sostanze iliscite o il tabacco, il fumo del tabacco e anche abitudini normali come per esempio un buon riposo, una alimentazione equilibrata, eccetera. E tutti questi fattori influiscono in modo generale alcuni più alcuni meno nella fertilità della coppia. perché quando parliamo di uno parliamo delle due. Se uno nella coppia non è fertile le due sono non fertili. E la riflessologia come può aiutare? Alcuni più alcuni meno. C'è una domanda o c'è la tv parlando nel... No, scusa mi è partito il cellulare. Ah, va bene. Lo scopo della riflessologia plantare è aiutare la coppia a trovare una soluzione e una speranza per il proprio problema. Sicuramente la coppia che sta cercando di ottenere una gravidanza ha già visitato i medici e fatto degli esami e quindi quando noi abbiamo una coppia e chi viene per una consulenza di riflessologia già sappiamo o dobbiamo pensare che questa coppia già ha visitato medici ha passato per trattamenti di fertilità e viene da noi molte volte come una ultima risorsa e questo causa che il riflessologo affronterà una coppia piena di dubbi paure incertezze e anche disperazione per aiutare per aiutare nel loro compito dobbiamo sempre effettuare un'analisi approfondita della loro diagnosi se esiste per fungere di guida per il percorso del trattamento sapere se ci sono possibilità possibilità ci sono sempre ma alcune volte noi troviamo che c'è un grande ansia per avere una gravidanza domani domani mattina dal momento che una coppia entra nello spazio della consulenza già sappiamo chi vuole questo bambino già domani domani mattina ma questo non è possibile questo è possibile questo sarà possibile se la coppia le due c'è una con una con una buona dinamica di cooperazione di comunicazione fra di loro siano riusciti e capaci di fare alcuni cambiamenti nella qualità di vita o anche nella visione della loro pazienza perché ricordiamo una cosa c'è un'età per essere per ottimizzare la gravidanza e questa età è un'età quasi impossibile per noi di trovare l'età dal punto di vista biologico dove si trova la dove si trova la la riserva ovarica perfetta e con le condizioni fisiologiche perfette per una donna per ingravitare sono le 20 anni ma noi per cause del nostro tipo di vita sia per una laurea che sto studiando che sono all'università e prima viene la laurea e dopo viene viene il essere dottore professore e dopo cominciare a lavorare avere un buon posto di lavoro e dopo l'economia e dopo la casa e dopo tutte le cose queste sono scelte che molte volte impediscono un buon rapporto che non si trovano o non non si trovano con il processo biologico delle persone perché noi nella nostra consapevolezza nella nostra voglia noi possiamo avere desideri ma il nostro corpo è biologicamente programmato per avere una risposta accorda alla sua età quando si arriva all'età di 35 anni per esempio per la donna la quantità della riserva varica comincia a diminuire in un modo già molto più molto più come si dice molto più importante che in anni precedenti e dopo quando si arriva all'età di 42 anni si arriva con una riserva ovarica minima quindi quando una persona si ritarda nel suo processo di assumere la decisione di ingravidare o di formare una famiglia perché questo è il principale troviamo che stiamo arrivando un po' tardi che il treno si va e già non ritorna e così molte delle persone che io ho trattato in tutti questi anni vengono con questo discorso il treno si va il treno parte e devo prenderlo perché se no questa sarebbe la mia ultima opportunità allora quando noi troviamo questo tipo di ansia e incertezza e paura nella copia noi anche dobbiamo fare un lavoro personale molto profondo per non essere influenziati di questa ansia e di questa incertezza ma io non sto dicendo di non essere empatici perché la prima cosa che noi dobbiamo essere con una copia che viene per un problema di infertilità è essere empatici con le loro aspettative ma anche essere realisti dobbiamo quindi concentrarci su ciò che sappiamo della copia per esempio come comincia un'analisi di una copia che viene per un problema di infertilità quali sono i risultati dei test e qual è la diagnosi c'è una diagnosi se c'è una diagnosi dobbiamo saperla e sapere perché con la riflessologia noi possiamo lavorare in un modo molto efficace in quegli problemi che si trovano a livello fisico non con tutte le soluzioni sono efficaci per tutti i problemi ma la riflessologia agisce in un modo molto positivo con il corpo dipendendo chiaramente quale sarebbe il problema che tipo di trattamento hanno subito i componenti della coppia per esempio lei ha fatto per esempio trattamenti ormonali ogni mese qual è il tipo di ormone quali sono stati gli effetti secondari e nell'uomo e lui ha fatto qualcosa per migliorare la qualità dello suo sperma per quanto tempo e quali sono stati i risultati e questo è importante sapere il grande problema è che molte volte le persone non sanno spiegare esattamente qual è stato il risultato del trattamento che hanno attraverso e magari per una mancanza di tempo il tempo non è stato sufficiente come per dire ah sì il risultato di questo trattamento non è stato buono ma alcuni trattamenti devono essere fatti su un percorso di tempo per avere per esempio se c'è un problema di ovulazione o se c'è un problema di amenorrea corrigere questa amenorrea o questa ovulazione per sapere che il ciclo mestruale è un ciclo mestruale il più normale possibile ma questo prende tempo non si fa di un mese all'altro c'è stato qualche cambiamento e quali problemi sono legati a lei e quali problemi sono legati a lui è possibile che nessuno dei due sia stato diagnosticato un problema fisico e che non ci sia ancora una gravidanza perché questo può succedere e succede molte volte io sto bene anche lui sta bene ma non riusciamo a avere un bambino e qual è il problema quindi in questo caso ci sono molte le teorie una avere pazienza aspettare sapere aspettare non essere stressati perché fisicamente una coppia può essere entrambi le due possono essere le due in un buon stato in un buon stato fisiologico senza nessun problema senza malattie o senza ostacoli ma alcune volte alcune volte troviamo che o dobbiamo considerare che né sempre uno stato fisiologico normale garantisce una gravidanza perché ci sono anche moltissimi altri aspetti che si riferiscono a un tipo di stress a un tipo di scelta che alcune delle coppie ha fatto e che influisce nel suo rapporto e la grande domanda che sorge spontanea è siamo in grado di aiutarli la risposta è sì aiutamoli a realizzare il loro sogno di creare una famiglia e questa per me è la prima è sempre la prima domanda quando viene una coppia o quando viene lei o quando è sempre viene lei prima io non ho mai ricevuto una un consulente no sì una volta solo una volta ho ricevuto un consulente un uomo un uomo che è venuto e che si lo ha consigliato la sua la sua moglie vai al riflessologo e fai ti trattare perché lei assumeva che lei stava bene e lei infatti stava bene la prima domanda è qual è la vostra scelta qual è la vostra aspettativa una che mi una che mi fa pensare è ingravidare la risposta è ingravidare la seconda già è un po' meglio quando dicono avere un bambino la terza per me che è la più non è la più comune di ascoltare ma è quella che io aspetto è quella di creare una famiglia quando si tratta già di creare una famiglia io lo penso così io credo che la semantica la semantica è l'obiettivo lo scopo della coppia deve venire deve essere il deve essere sempre quello di creare una famiglia non di ingravidare non di avere un bambino alcune cose già cominciano nella fase preconcezionale e questo diciamo viene per esempio di una consulente di una paziente che viene e ci esprime la sua voglia di rimanere incinta di avere un bambino di creare una famiglia nella fase preconcezionale la fase preconcezionale è quello dove noi possiamo senza l'intenzione di avere una gravidanza possiamo conoscere quali sono i fattori che nel momento di provare di avere una gravidanza potrebbero disturbare o potrebbero influenziare nella capacità delle coppie di ingravidare e avere un bambino il trattamento di riflessologia può iniziare nella fase preconcezionale con l'intento di prevenire e guarire per fare cioè necessario conoscere il loro stato di salute anche quando stanno semplicemente pianificando una futura gravidanza qui è dove dobbiamo sapere se ci sono malattie o disfunzione che possiamo iniziare a curare come per esempio una donna con un BMI o un IMC o un indice di massa corporea molto alto o molto basso potrebbe avere difficoltà a rimanere incinta facilmente come abbiamo parlato prima il medico ti ha parlato di questa possibilità mi ricordo una volta che è venuta una donna e questo era lo stato di 38 anni se non mi sbaglio 38 anni ma con un indice di massa corporea molto alto lei si trovava già nel 33 quando il massimo è 25 era una donna molto obesa molto obesa io in uno dei trattamenti le ho detto il suo medico non ne ha parlato degli effetti del sovrappeso e la risposta è stata così lui mi ha detto che il sovrappeso non influisce perché se io non riesco a ingravidare così poi c'è la possibilità di una fertilizzazione in vitro io sono rimasto zitto perché conosco un po' perché conoscevo quale sarebbe l'intenzione una persona se noi possiamo se noi lasciamo tutto o tutte le possibilità per esempio di ingravidare o di rimanere incinta di avere una famiglia ha la possibilità tecnologica di una fecondazione in vitro dopo io mi chiedo perché veniamo alla riflessologia o perché abbiamo un rapporto sessuale vogliamo averlo naturale o non averlo naturale e anche quando si fa una fecondazione in vitro con uno stato così di obesità le possibilità di mantenere la gravidanza sono molto basse una donna che è considerevolmente in sovrappeso può essere esposta allo sviluppo del diabete gestazionale in gravidanza diciamo che questa donna già noi non abbiamo nessun dubbio che lei sarà incinta lei ingraviderà lei avrà una gravidanza questo problema è un problema del diabete gestazionale in gravidanza è un problema molto serio è proprio come se fosse una componente genetica ma non è solo una componente genetica una delle cose che fanno o che causano il diabete gestazionale sono ovviamente componenti genetici perché i fattori di rischio si possono trovare per esempio il fattore di rischio numero uno è una storia genetica che viene di famiglia ma un'altra che è non meno importante è il sovrappeso una donna un altro un altro esempio una donna che ha abortito spontaneamente il feto nelle prime settimane di gravidanza a causa di ipotiloidismo di cui non era a conoscenza e non era in cura per questo molte persone non sanno che hanno disfunzioni ormonali molte persone non sanno questo in generale e in particolare non sanno che hanno l'ipotiloidismo essendo che l'ipotiloidismo può essere uno degli ostacoli più grandi per mantenere una gravidanza quindi nell'etapa nel periodo preconcezionale noi possiamo fare qualcosa per questa persona che viene da noi con un problema di ipotiloidismo sì possiamo la prima è parlare e dir la signora i suoi sintomi i suoi sintomi io se io fossi lei io direi da un medico da un endocrinologo per analizzare esattamente come funziona il suo sistema endocrino in modo specifico la ghiandola tiroide perché questo problema la ghiandola tiroide quando per esempio diciamo che arriviamo arriviamo a uno stato in cui sì riusciamo a avere una gravidanza e questa persona è ipotiloidea e sto parlando della donna già non dell'uomo sto parlando della donna nel periodo nella fase di come si può dire in italiano in italiano nel periodo di organogenesi vuol dire nel periodo di 13 settimane dove si sviluppano tutti gli organi del futuro bambino la sua grande ghiandola tiroide è l'ultima a crearsi e quindi tutte quelle e lui ha bisogno delle ormone tiroidee per la sua crescita e dopo da dove vengono le ormone tiroidee chi ha bisogno il bambino della mamma e se la mamma ha l'ipotiloidismo e non fornisce la quantità necessaria per il bambino per crescere questa gravidanza non potrà arrivare a buon termine e quindi le possibilità di un avorto spontaneo sono molti alti dal punto di vista spirituale e psicologico traumi e frustrazione di una precedente gravidanza che devono essere lavorati nella prossima gravidanza per esempio taglio cesario non necessario parto difficile o traumatico un'esistenza del CMV che è un un virus che si può scoprire in un'analisi del sangue ma che può difficoltare il mantenimento della gravidanza e queste cose si possono sapere prima di provare a ingravidare le conseguenze citomegalovirus citomegalovirus sì CMV citomegalovirus grazie un attimo per favore delle conseguenze dell'obesità e del sottopeso sulla salute e sulla capacità fertile dell'individuo sono riconosciute e comprendono alterazioni nell'ambito più ampio della riproduzione alterazioni di fattori psicosociali capacità coitale libido e evoluzione nonché parametri ormonali biochimici generanti infertilità e gravi conseguenze negative per la gravidanza il parto e la prole pertanto l'obiettivo di questo dialogo è quello di renderli consapevoli dei meccanismi attraverso i quali l'obesità influisce sulla capacità riproduttiva di uomini e donne che sono complessi molti fattoriali e spesso non del tutto chiari non del tutto chiariti alcuni problemi per esempio anche l'ipotiroidismo di cui abbiamo parlato la ipertensione il diabete il lupus la salute dentale l'assunzione dei medicinali l'epilessia è una storia di gravidanze precedenti come sono state come sono state quelle gravidanze perché perciò poi parliamo parliamo sì di una fertilità secondaria infertilità secondaria quando parliamo per esempio della salute dentale questo vuol dire non è un impedimento questo non impedisce a una donna di ingravidare ma quando parliamo di salute dentale dobbiamo pensare che per esempio se lei viene da me oggi mi dice ah sì stiamo provando di ingravidare ah va bene bellissimo ma io non lo so adesso ho un problema dentale che mi fa voglia spostarlo perché non sono in condizioni in questo momento mentale psicologica di assumerlo questo può essere un grande errore perché nel primo trimestre della gravidanza non ci saranno problemi non ci sarà attenzione dentale perché perché le associazioni di odontologhi si dice no o dentisti non verranno non verranno non verranno ricevere a una donna incinta nel primo nel primo trimestre della gravidanza perché perché non si conosce quale sarebbe la influenza la influenza dell'uso di sostanze che potrebbero essere tossici per il bambino e dopo anche il terzo il terzo trimestre il terzo quartiere della gravidanza è anche un po' problematico ma già è per problemi anatomici è molto più difficile per un dentista lavorare con una donna incinta e quindi il secondo trimestre il secondo quartiere della gravidanza è quello indicato per avere attenzione dentale è quello che non ho fatto prima di ingravidare devo aspettare di farlo al secondo il lupus è una malattia autoimmune il diabete il diabete tutto dipendendo di quale sarebbe il tipo di diabete se è una diabete tipo 1 è molto più pericolosa che per la gravidanza che una diabete di tipo 2 ma anche una diabete di tipo 2 può portare a grandi complicazioni e tutto questo io lo suggerisco di essere controllato e trattato prima di ingravidare e il più importante siamo arrivati già ai dolci conoscere il ciclo mestruale è regolare o irregolare sai quando avviene l'ovulazione c'è qualche problema anatomico perché può essere può darsi di un utero di un problema di utero come per esempio polipi 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 uterini o fibroidi uterini può essere un problema e sai quando avviene l'ovulazione alcune volte io ho ascoltato questa risposta con questa faccia non lo so noi abbiamo rapporti sessuali tutti i giorni e la pensiamo la pensiamo così dobbiamo sapere quale sono deve analizzarsi quali sono quali sono i dia i più ottimi o i giorni le più come si dice propizi i giorni più propizi questo grazie i giorni più propizi per il rapporto sessuale nel periodo dell'ovulazione e come riflessologo devi conoscere molto bene il ciclo mestruale a volte io in questo momento non voglio fare questa domanda quanti di voi potrete spiegarmi come è il ciclo mestruale diciamo che viene una viene una donna e mi dice mi spiego per favore il ciclo mestruale come comincia come finisce quali sono le fasi quali sono gli ormoni e molti riflessologhi non riescono a spiegarlo e quindi per me un impegno del riflessologo è conoscere molto bene il ciclo mestruale il compito del riflessologo inizia con l'analisi delle caratteristiche del ciclo mestruale degli ormoni presenti in questo periodo della temperatura basale e dell'analisi del muco cervicale perché con questi parametri noi possiamo avere un'idea di come quale sono se il suo sistema funziona correttamente e quando fare un trattamento di riflessologia quando aspettare e come guidare come guidare alla coppia di quando venire dal trattamento di riflessologia e cosa aspettare e dopo abbiamo alcuni problemi che sono patologie problemi dal punto di vista fisico e fisiologico e anche alcune sono anatomiche come per esempio il sindrome di ovaie pollicistiche conosciuto per il suo nome in inglese come PCOS Polycystic Overe Syndrome e il sindrome delle ovaie pollicistiche che non è solo un problema di chisti nelle ovaie è un problema che coinvolge un problema metabolico e questo problema metabolico può avere come fine per esempio il sovrappeso e alcune altre conseguenze come per esempio la crescita dei capelli in luoghi che non sono tipici per una donna la menorrea che è la mancanza di mestruazione o una mestruazione molto irregolare ostruzione delle tube che è un 40% un 40% o tra un 25% e un 40% dei problemi dei problemi fisiologici che presenta la donna è un'ostruzione delle tube endometriose ne tutte le case di endometriose non conducono alla gravidanza perché se c'è una l'endometriose è una condizione molto difficile di trattare è una condizione molto dolorente e anche ci sono tipi di endometriose che impediscono assolutamente la gravidanza ci sono anche alcuni tipi di endometriose che offrono alcuna possibilità di avere una gravidanza quali sono questi tipi e la preparazione per la fecondazione in vitro e con questo argomento c'è una grande controversia a livello diciamo generale storico sulla contraindicazione della riflessologia se si può o se non si può fare nel periodo della fecondazione in vitro non solo io propongo di no che non ci sono contraindicazioni ma nel corso io vi propongo una via per la quale possiamo studiare qual è il meglio percorso di trattamento nel periodo di fecondazione in vitro in tutta l'etapa di preparazione dell'assorbimento delle uscite dell'implantazione eccetera e cosa deve farsi in ognuna dei trattamenti in questo percorso e nell'uomo analizziamo anche la fertilità maschile parametri di spermografia dobbiamo sapere quali sono i parametri della spermografia per sapere quali sono le possibilità di migliorare la qualità dello sperma e cosa è la ipospermia o l'asospermia che è la non esistenza assolutamente nulla dei spermatozoidi il varicocele che è una condizione inflammatoria che si trova solo nell'uomo e che si può aiutare si può aiutare non si può non posso dirlo con responsabilità che si può che si possa guarire con la riflessologia non ho un'esperienza di guarirla con la riflessologia ma di complementare il trattamento del varicocele quando il varicocele è una delle condizioni le più comune che impediscono la fertilità in un uomo della quale un 75% dei uomini non sanno chi hanno un varicocele disfunzione renale ed epatiche problemi di prostata prostatite cancro alla prostata e epilimite tutte queste cose noi le studieremo nel corso tutte queste malattie patologie condizioni disfunzioni dell'apparato riproduttore sessuale riproduttivo sessuale della donna e dell'uomo e in generale e in particolare tutte le tutte le malattie quale sarebbe l'approccio riflessologico e il riflessologico giusto alcune tecniche e così credo di aver arrivato alla fine di questa presentazione e sono aperto l'ultima volta che ho fatto un'introduzione a un corso Cristina mi ha detto dopo aver parlato un'ora e mezza mi ha detto ma Mauri hai parlato molto devi parlare meno e quindi questa l'ho programmato per una ora e sono stato un'ora e tre minuti perfetto sei stato perfetto grazie questo ci lascia un po' di tempo scusate nel caso che qualcuno abbia delle domande quindi per esempio adesso io vedo che ci sono qui ben ventidue persone o ventiquattro insieme con me con te Maurizio quindi tra tutte queste persone c'è qualcuno che ha delle domande una domanda da fare un chiarimento da chiedere sì ma sono tutti timidi sono tutti dietro la portina nera sì vedo no veramente se avete una domanda questo ci permette di entrare un po' più nel dettaglio eventualmente un caso anche un caso che avete presente qualche persona che avete trattato che state trattando se avete mentre aspettiamo il riscaldamento dei motori diciamo che questo corso questo corso che vi proponiamo Centroname che comincia il 27 marzo mercoledì 27 marzo avrà un totale di 8 8 incontri di più o meno due ore ognuno dove parleremo di tutti questi aspetti che abbiamo parlato già in questa presentazione ma in molto più dettaglio con tecniche di riflessologie suggerite un approccio suggerito e anche un consiglio di studio semplicemente per avere un'idea di come si deve costruire come si deve sì come si deve costruire un percorso di trattamento per una coppia che viene per un problema di fertilità si aggiungerei che molti di voi hanno già partecipato a dei corsi online quindi sanno come funziona se qualcuno invece è nuovo e si domanda come si fa a fare un corso di riflessologia online spieghiamo appunto che siccome siete tutti dei riflessologi già professionisti quindi non dovete imparare la tecnica riflessologica ex novo le tecniche vengono presentate da Maurizio con dei filmati con dei video che lui ha girato preventivamente e naturalmente poi voi dovete praticarli a casa per impadronirvene è consigliato di farlo nella settimana tra una lezione e l'altra così se avete dei dubbi potete poi portarli nella lezione successiva in modo da permettere a Maurizio di chiarire meglio far rivedere il video commentarlo spiegare eccetera eccetera quindi possiamo garantire anche a chi non ha mai frequentato finora dei corsi online che funzionano sì ormai siamo diventati esperti vero Mauri dei corsi online siamo diventati specialisti esatto sì ma questo io ti dico la verità è uno dei grandi benefici che ci ha legato alla pandemia assolutamente assolutamente non c'è mai qualcosa che sia solo negativo no se si è orientati verso le soluzioni dei problemi quando arrivano i problemi noi guardiamo le soluzioni e questo è stato esatto esatto io mi ricordo mi ricordo in quel tempo che noi abbiamo cominciato con i corsi online o che io ho avuto cominciato prima di cominciare con l'Ame di leggere tantissime critiche no ma come si può fare un corso online della riflessologia io ho detto ma va bene c'è una per esempio se tu vieni a un corso in presenza dove si parla tantissimo di teoria quanto di quella teoria che parla il professore tu puoi immagazzinare in testa e ricordarlo tutto con il corso online c'è il grande vantaggio che si può riguardare si può riguardare si può studiare tutto anche la tecnica la puoi riguardare tutte le volte che vuoi assolutamente assolutamente sì e adesso io sono qui aperto sentite io sono aperto a rispondere a tutte le domande ma se non ci sono domande sta la cena aspettandomi la cena sta aspettando lui cena sempre dopo eh sempre sempre prima invece sempre e noi perché io ho scoperto che questi corsi mi aprono l'appetito ecco ok io morirei di fame nel frattempo ah no e quindi bene vedo che non c'è nessuno che ha domande tutto perché sta tutto tutto stato chiarissimo tutto è stato ben spiegato le persone sono stupiti della della bellezza della conoscenza e quindi sono timidi di parlare allora io spero che abbiate tutti la possibilità di contattarmi sono io che per conto del centroname organizzo questo seminario quindi vi metto i miei contatti nella chat così avete la mia email che è rosa rosa mi scrive grazie maurizio rosa che non so chi è non la conosco e mi dice una questo questo messaggio misterioso grazie non è tanto misterioso allora questa è la mia email potete segnarvela mc.chiarelli a gmail.com e questo è il mio numero di cellulare vi potete chiamare per dare un whatsapp può salve può rimetterla un attimo Angela benvenuta sì dimmi volevo no volevo riprendere il contatto che ho perso va bene non ho fatto in tempo è rimasto scritto nella chat se è scritto la parola chat lo vedi il problema va bene dai vi trovo il problema è che questo è il numero di telefono non riesco a trovarla va bene comunque ho il contatto su facebook quindi vi posso scrivere Angela se scendi con il cursore nella parte inferiore dello schermo guarda ho una una pagina che non aspetta vediamo un po' c'è scritto chat ok chat sì clicca lì sopra si apre una finestra sì trovi i miei due contatti ho messo l'email e ho messo il numero di telefono di cellulare l'hai visto? purtroppo non lo trovo non lo trovi no perché non so perché non lo so va bene allora cercami su facebook sì scrivami su facebook ok sì va bene grazie 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 mille bene allora ti salutiamo ok grazie a tutti aspetta no devo dire devo devo dire una cosa scusate è importante siccome il centro NAME è un'associazione per partecipare ai nostri corsi senza pagare l'IVA dovete essere soci altrimenti siamo costretti ad addebitarvi l'IVA e farvi la fattura eccetera quindi se decidete di frequentare il corso pensateci con un po' di anticipo perché dovete avere il tempo di mandare la domanda a socio poi quando mi scrivete o mi telefonate vi mando io tutti i link alle pagine ai moduli online e noi dobbiamo avere il tempo di riunire il direttivo questa è la legge che riguarda le associazioni i nuovi soci devono essere approvati dal direttivo quindi dobbiamo fare una riunione del direttivo per approvare le vostre domande e solo una volta che siete soci fate la domanda per partecipare al corso e in quel caso non pagherete l'IVA che è un bel risparmio ok a fronte di 30 euro di tessera annuale quindi decisamente molto conveniente questo era importante dal punto di vista organizzativo bene ci possiamo salutare mille grazie a tutti voi grazie grazie a voi un grande abbraccio ciao ci vediamo in un'altra opportunità e online o in Italia bene ciao a tutti grazie per l'attenzione grazie ciao grazie ciao